Si chiama Chanel Mitchell, una bella ragazza americana, la quale pensate avrebbe, o meglio sarebbe stata accusata di aver trascurato il suo amato cagnolino durante il terremoto di California, California di 7.1, scossa violentissima, la ragazza pensate che avrebbe ripreso tutto col suo telefono cellulare, ma nella clip condivisa nei social network la ragazza mostra gli effetti di questo terremoto nella sua piscina, le onde si vanno a sollevare con forza, lei ha dentro casa, il cane nel cortile, cerca in tutti i modi di entrare, il cuore e i unghi con i denti, l'animale abbaia più e più volte ma sembra la fanciulla in questione molto intenta di prendere, alla fine però una sola frase rivolge al cagnolino amato. Tutto ok Max? Sarebbe stata questa attenzione tardiva ad avere scatenato delle furenti o meglio feroci critiche da parte di chi fa parte del web, degli internauti, infatti la donna sarebbe stata interrotta, inimproverata, perché non avrebbe pensato ad accogliere il cane che si sarebbe ritrovato piuttosto spaventato. Il video è diventare virale e più di un milione di visualizzazioni in due di pubblicazione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro al prossimo video da Leandro, un narratore italiano.